In tempi di crisi c'è chi si reinventa e approccia l'attività più antica del mondo in formato moderno. Già, perché l'innovazione passa anche attraverso la vendita del sesso. L'online permette di vendere il proprio corpo con entrate sicure e con un approccio virtuale. Uno schermo divide chi vende e chi acquista, ma il risultato evidentemente soddisfa l'acquirente che è disposto a pagare e sottoscrivere abbonamenti per divertirsi. L'industria del sesso nel web fattura cifre da capogiro e oggi chi lavora in questo settore si identifica come una nuova figura professionale dai connotati digitali. Anche loro sono creator. C'è chi la chiama prostituzione moderna e chi rigetta questo termine al mittente, definendolo un lavoro di creazione digitale. Molte ragazze si sentono delle modelle. Sono sempre più giovani le donne disposte a spogliarsi e condividere intimità, protette da uno schermo. Un'illusione che trasporta in un mondo di denaro facile dove addirittura le nuove imprenditrici di se stesse si sentono delle piccole star.